Salvini a suo giudizio nelle prossime elezioni, perché tanto adesso ricomincia la campagna elettorale, noi appena ne finiamo una ne cominciamo un'altra, ci sono altre elezioni regionali, opterà di nuovo per una fortissima personalizzazione, come abbiamo visto in Emilia Romagna, più che in Calabria, oppure sceglierà un'altra strategia? Io penso che il carattere di Salvini sia come l'euro, cioè irreversibile. È carattere, quindi così è. È carattere, quello è il suo stile e quello è anche il suo limite, perché nel momento in cui non riesce più a governare il suo estremismo, diventa un problema a pilastro, Salvini ha perso, al papete. Quindi si aspetta di vedere lo stesso film, diciamo. Con la differenza che in questi mesi nel centro-destra cominceranno a emergere elementi di frizione, la crescita della melone che anche oggi ha detto, però insomma squadra, meno personalismo, più squadra.